www.marizopoli.it, siamo qui nell'ufficio di Giusy Biondelli, educatore consulente finanziario, con l'ultimo numero in edicola del settimanale Mondo Badano, nell'urbica risparmio e finanza, anche in digitale su www.mondopadano.it. Cosa ci parla Giusy di questo articolo? In questo articolo parliamo soprattutto di tassi, ma di tutti i numeri che sono collegati all'andamento dei tassi, inflazione, pilla, sono tutti dei numeri che tra di loro si relazionano e parlano di macroeconomia. Bellissimo Giusy, ma cosa ci dà? C'è sempre una tua frase finale all'articolo? Ve la leggo, ve la cito, naturalmente. Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato. Albert Einstein. Quindi bisogna contare prima di investire. Insomma, diciamo che i numeri ci parlano e a volte ci dicono delle cose e a volte noi non abbiamo le orecchie per ascoltarle, quindi attenzione a tutto quello che ci dicono i numeri. Grazie a tutti e una buona lettura in digitale e in edicola. Grazie, a presto!